E' arrivato il momento dei calci di rigore, 5 tiratori da una parte e 5 dall'altra. Porterà a casa la vittoria chi avrà più testa, chi saprà controllare meglio le emozioni. Segnare il primo rigore è fondamentale. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. Mbappé è concentratissimo. Splendida parata. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Si segna da un grande vantaggio la squadra, un doppio vantaggio. A quel punto sarebbe davvero rassicurante. Il portiere intuisce la direzione del tiro, la palla però va in rete lo stesso. Devono assolutamente reagire, non hanno alternative. Adesso si può solo... Perfetta trasformazione di potenza trova il gol. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Ora possono incrementare il vantaggio. Questa è un'occasione ghiotta. E sono avanti di due adesso. Sono sotto di due gol. Devono segnare questo rigore per cercare di riaprire la partita. Che errore! Ma come ha sbagliato! Si appresta a calciare un rigore pesantissimo. Concentratissimo l'estremo difensore. Deve pararla o lo scontro termina qui. Sul palo! Ha cercato la precisione. Il legno gli ha negato il gol. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol! I tifosi fanno bene a crederci ancora. È un rigore questo che potrebbe chiudere definitivamente i giochi. Chissà cosa passa per la testa del portiere. Tutta la partita dipende da lui. Incredibile! Doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Qui non possono sbagliare. Se non entra hanno perso. E questo rigore va messo dentro. Altrimenti il match è deciso. Freddissimo! Non doveva sbagliare. Non ha sbagliato. Tre gol per parte. Da qui in poi si va d'oltranza. Un errore ed è finita. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. Il tiratore piazza la palla sul dischetto. Derun tirerà il settimo rigore. La mette lì. Nell'angolo destro. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. E questo rigore va messo dentro. Altrimenti il match è deciso. La mette dentro. E la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Otto rigori. Non si vedono tutti i giorni. Che nervi d'acciaio! Proprio nel mezzo! Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. La responsabilità di evitare la sconfitta. È tutta sulle sue spalle. C'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Rigore tirato alla perfezione. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere. Nono giocatore a portarsi sul dischetto. L'ha piazzata nell'angolino in basso a sinistra. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. È dentro! C'è ancora speranza! Ha preso la decisione giusta. Ha insaccato la palla nell'angolo opposto. E ora è il turno del decimo tiratore. Nessuno vuole mollare. Parato! Grande salvataggio del portiere. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Un rigore che vale la vittoria. Gollini. È l'ultima speranza della sua squadra. Parato! Mantiene in corsa la sua squadra. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Due portieri di fronte. Una scena abbastanza inusuale. Una sfida di nervi e di testa fra i due. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione. E lui ce l'ha avuta. E questo rigore va messo dentro. Altrimenti il match è deciso. Freddissimo! Non doveva sbagliare. Non ha sbagliato. Tutti i rigoristi hanno già tirato ma non è finita. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta. Non è riuscito a bloccare. E se questo pallone non entra la partita è finita. È il rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. È dentro! C'è ancora speranza. Ha spiazzato il portiere con freddezza. Si è capito subito che non avrebbe sbagliato. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità. Responsabilità. Ci vuole un grande giocatore. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Il Paris Saint-Germain. Deve segnare a tutti i costi. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol! I tifosi fanno bene a crederci ancora. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere. E non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Duvan Sapata sta per calciare dal dischetto. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. E con questo tiro ha deciso la partita. Una partita durissima, in grande equilibrio. E alla fine ha vinto che ha avuto il sangue più freddo. Gli avversari non hanno saputo gestire la tensione dei calci di rigore. Loro sono stati bravissimi a mantenersi calmi e concentrati.